Ciao e mandi a tutti ragazzuoli, bentornati dal vostro Ava come l'Ava su Genshin Impact Allora ragazzi, bando alle ciance e oggi è il... che giorno è oggi? Oggi è il 29 luglio del 2023 e da qualche giorno è uscito ovviamente il banner di Kokomi E il Vagabondo, poi abbiamo il desiderio evento armia che c'è, l'arma di Kokomi E quella di Scaramouche con vino e musica, ma io toglierei... no no ci sta secondo me vino e musica Proprio vino, musica, polenta, muset e brovade e sarebbe eccetera Qua dice eccetera ma io vedo solo delle spade, archi abbiamo Favonius, Ruggito del Tuono, Lion's Roar Dragon's Bane, poi abbiamo Vino e musica, proprio un libro che si chiama Vino e musica E poi abbiamo l'amatissima The Bell che tutti amano, quella schifosa Claymore E mi fermo qua perché sennò esplodo E dopo ovviamente abbiamo il standard Ma a noi non ci frega un fico secco Allora ragazzi, io dopo tanto tempo di pensiero Ho pensato Qua che cacchio faccio? Kokomi o il Vagabondo? Allora, i 4 stelle, parliamo un attimo di 4 stelle Io sono nella situazione che ho Yanfei, C6 Rosaria, C6 Farusan, C5 C5 Ovviamente sappiamo che Farusan dà un bel boost al Vagabondo Però, però ragazzi Ho Nilu, Naida Barbara E vorrei rimpiazzare No, Barbara con Kokomi Kokomi, ragazzi Non è necessario ovviamente dargli la luna perenne Potete dargli qualsiasi libro con Energy Recharge O PS Chi se ne frega Va benissimo comunque È semplice da buildare Mentre il Vagabondo richiede molte attenzioni Ok? E quindi abbandono No, il Vagabondo Però, dai Io spero sempre di una Farusan Che almeno così la portò C6 E Ovviamente Kokomi È Un must 16 16 Ragazzi Come possiamo vedere Siamo Sull'isola di Watatsumi Quindi Dai Quella di Yaimiko È andata bene, no? Quindi abbiamo messo Raiden Allora Kokomi Kokomi L'aiutante di Kokomi E Gorou Attenzione Dai, io provo a fare così Eccoci qua Abbiamo No Messo Gorou Per chiamare Kokomi No, un 4 stelle Che chiama un 5 stelle O un 5 stelle Che chiama un 5 stelle Chi se ne frega Però Gorou È sempre dietro a Kokomi Quindi Ricapitolando Via con la Pool E avevo detto Sono a 16 16 Dato questo Andiamo per la 26esima Speriamo che Ok, 4 stelle Ti prego Farusan Farusan Per favore Per favore Per favore Un 4 stelle Bello No arma No arma No arma Oh, l'ossidazione Meschina Proprio meschina Quest'arma Non è ossidazione È meschina Potevano chiamarla Meschina Quest'arma Sperbbe stato meglio Schifissimo ragazzi Schifissimo Vabbè 26esima Fatta 26esima 36esima 36esima Chissà come andrà Farusan Per favore Farusan 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 Arma 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 Farusan No arma Farusan No Ragazzi No Rosaria Rosaria No 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 Peccato Peccato Vabbè Dai Mi dà Una No Mi dà 5 Luce stellare Senza pallone Vabbè Ok Quindi Ora passiamo Alla 46esima Vabbè Rosaria 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 Poteva starsene Lì Lì Andiamo Per la 46esima 46esima Non dico Farusan Proprio Dico l'opposto Datemi Rosaria Per Cristo Dai Rosaria Dai 5 copie Di Rosaria Per favore Dai Dai Ma Ma perché Ma Favonius Dai Niente Favonius Boh Vabbè Schifissimo Ragazzi Veramente Proprio Boh Vabbè Proprio Banne Personaggi Che mi stanno Dando solo Armi Ok 56esima Andiamo Ormai Ormai Siamo A metà 56esima 4 stelle Datemi una Yanfei Yanfei Si Si Boom Ci sei Ci sei Missione compiuta Ragazzi Farusan Ci sei Finalmente Cosa ho detto Yanfei Ragazzi Dovete fare sempre così Dovete dire sempre il personaggio Quello proprio che No Quello che non vi serve Però Dovete fare così Dovete fare un inghippo Attenzione Con un arco Sacrificale Oh Buono Proprio Farusan e l'arco Che è molto buono No Ok 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 Perfetto Perfetto E adesso ragazzi Si va a calza di Kokomi Quindi 66esima 4 stelle Ok Ormai non ha più Non ha più importanza Il 4 stelle Quindi io potrei fare anche un salta Ma Non lo faccio Yanfei Rosaria Dai Oh Ok Ok Yanfei Vabbè Dai Ok Si può stare Oh È comparsa Dai È comparsa È comparsa Ok ragazzi Bene Adesso si va Alla 76esima Proprio 76 Sono a 66 Adesso Vado E conto Ok Ecco No Stavo scherzando Ok 76esima Fatta È qua Adesso mi sale l'ansia Ragazzi Perché devo andare di singola E qua Mi mangerò Proprio Tavonius Ok Ragazzi Vabbè Questo banner Mi sta prendendo Un po' Il giro Mi ha dato 4 armi E 3 personaggi Però vabbè Adesso ragazzi Sono a 76 Adesso sono a 76 E adesso E adesso vado Alla 86esima Ragazzi Non voglio fare singola Perché Veramente Ho paura Ho paura Non so Se voi vi trovate Con la singola Bene Io mi trovo bene Con la multipla Quindi io vado A 86 Ora E adesso Si illumina Adesso non voglio dire nulla Ok Non dico assolutamente nulla Sì Andiamo Voglio un'altra copia Voglio un'altra Copia Per Favore Cocò Mi ti prego Dai un'altra Avevo visto il colore Yanfei Yanfei Vabbè Chi se ne frega Ragazzi È vinta È vinta Ha funzionato Di nuovo Ragazzi Abbiamo messo Gorou È arrivata Cocomi Quindi Benvenuta Benvenuta Principessa Cocomi Di Watatsumi Island Finalmente ragazzi Il team Bloom Adesso È al completo Finalmente Adesso È solo questione Di tempo Di andare avanti No Come sappiamo Livello Armi Talenti Eccetera Eccetera Oro Perfetto Quindi Mi rimangono ancora A 3609 Primo Ok 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 Gorou Guardate che posa Soddisfatta Che guarda la farfalla Che arriva Ma lui la vuole catturare E io metto Cocomi Eccola qui Si Che bello Che bello Che bello Bene Quindi ragazzi Confermato Quindi mi raccomando Se volete vagabondo andate dove Il vostro preferito è il vagabondo Se no fate come me E prendete Kokomi Ragazzi non dimenticatevi Di iscrivervi al canale Fate girare il video Fate vedere ai vostri amici che funziona La maggior parte delle volte E come ho detto prima Gorou che chiama Kokomi Se non ci credete Vabbè Credenze vostre Questa è una piccola prova Grazie